buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola ragazzi oggi parleremo di tranquillità si può nella società attuale vivere tranquilli in pace con se stessi e con gli altri bene la risposta come ben sai e no ma è possibile diventarlo trasformare lo stress l'angoscia le paure le ansie in energia positiva come si può fare con l'ipnosi dicesse vera e professionale senza se senza ma e ti racconto le mie esperienze un tempo da studente lavoratore senza una linea in tasca ero molto agitato molto frustrato avevo un vuoto dentro avevo anche dei dolori somatici al centro del petto a mal di testa cronico danni a norum e compagnia bella ed ero sempre agitato agitato oggi grazie a dio e grazie all'ipnosi dicesse vera e professionale con la v maiuscola che non hanno nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacoli e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale di milton reichson deve elman brian ways ottima attenzione da dove io sono partito e da ipnotista autodidatto risolto tanti e tantissimi casi gravi o meno gravi ipnotizzando sulle spiagge anche 10 20 persone alla volta per le strade in tutte le mie attività nel mondo chiedendo l'autorizzazione naturalmente cose incredibili che se mi guardo dietro sono passati 12 anni inoltre sono l'unico caso che si auto ipnotizza h24 da più di 12 anni da più di 12 anni mi auto ipnotizzo e anche se non sembra ok che cosa dire la famiglia chiama ti devo salutare ti do un abbraccio seguimi sui social e ricordati puoi scaricarti un audio mp3 di cese dal titolo molto controllo dei nervi no stress oppure andare presso qualcuno un professionista dell'ispronosi vera professione della tua zona che abbia però risolto il problema dello stress per trasformarti in una persona tranquilla energica e carismatica e seguimi sui social instagram twitter benessere i pro soluzioni di cese del dottor claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cese del dottor claudio saracino fai share condividi con amici parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me nel 2008 e seguimi anche su facebook ipnosi auto ipnosi del dottor claudio saracino e sul sito internet www.ipnosi associati.com un bacio un abbraccio alla prossima dal dottor claudio saracino ciao